Musica Tribunale di Sala Consilina in Commissioni Affari Generali della Regione Campania Ok alle audizioni del territorio accolta la proposta dell'Onorevole Matera Sportello Open SNAI La comunità montana Vallo di Diano attiva lo sportello informativo a sostegno del territorio per facilitare le informazioni sui bandi Cilento, falsi diplomi 554, gli indagati, tre reati contestati, anche corruzione e truffa aggravata San Pietro Altanagro al via le domande per il sostegno alla mensa scolastica Salernitana, gestione societaria, nuova offerta di 50 milioni ai trasti Bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale In Commissioni Affari Generali della Regione Campania ieri si è discusso delle azioni da adottare per la riapertura della Tribunale di Sala Consilina Il consigliere regionale Corrado Matera ha chiesto e ottenuto l'avvio delle audizioni Vediamo i dettagli nel servizio Il Tribunale di Sala Consilina è al centro di nuove valutazioni da parte della Regione Campania che sotto la spinta del consigliere regionale Corrado Matera è stato tema di analisi in Commissioni Affari Generali Prosegue quindi il percorso tracciato dall'ente regionale in linea con quanto fatto anche da altre regioni italiane per ottenere da parte del Governo una rivisitazione della riforma Un percorso che il consigliere regionale Matera pur seguendo la linea delle altre regioni punta a diversificare e a potenziare attraverso una serie di azioni mirate ad evidenziare la particolarità del caso del Tribunale di Sala Consilina che rappresenta un caso anomalo rispetto alle altre casistiche di tribunali minori soppressi in Italia per il suo accorpamento fuori regione e fuori corte d'appello per il suo inglobamento in un tribunale più piccolo sia per dimensioni che per carico di lavoro e la sua chiusura in area a forte rischio criminalità tutte situazioni che nella legge delega venivano indicate come non adottabili e sono proprio le incongruenze che hanno portato alla chiusura del foro di giustizia salese in netta contraddizione con le direttive emanate nell'ambito della legge delega che il consigliere regionale di Tegiano punta a far pressione sugli organi deputati a valutare una revisione allegando alla proposta di legge già presentata lo scorso giugno motivazioni e argomentazioni supportate da documentazioni e atti che diano maggiore forza alla proposta atti che Matera punta a raccogliere nel corso di audizioni con le parti interessate che siano enti pubblici o privati nella mattinata di ieri 14 ottobre in Commissione Affari Generali Corrado Matera ha presentato la richiesta per avviare le audizioni prima di portare la sua proposta di legge in discussione in Consiglio In Commissione Affari Generali, ha dichiarato Matera è stata incardinata la mia proposta di legge sulla riapertura del Tribunale di Sala Consilina ho rappresentato le ingiuste motivazioni che determinarono la sua chiusura ed ho chiesto anche di procedere all'audizione di rappresentanti istituzionali e non informati dei fatti L'invito di indire le audizioni è stato accolto ed autorizzato dalla Commissione Ringraziando tutte le forze politiche che hanno sostenuto e condiviso la battaglia a favore del Tribunale Salese sottoscrivendo la proposta di legge e attivandosi con i propri referenti in Parlamento Matera sottolinea Continua la battaglia per difendere la dignità del nostro territorio Governo e Parlamento dovranno prendere atto dell'errore fatto nel 2012 e porre rimedio consegnando al territorio del Vallo di Diano il Palazzo di Giustizia immotivatamente soppresso In una infinità di bandi e proposte progettuali di finanziamento che sono già attive e che a breve con l'entrata in pieno regime del PNRR potrebbero aumentare andando ad implementare le offerte già previste nell'ambito di strategia aria interna la comunità montana Vallo di Diano presieduta da Francesco Cavallone ha costituito uno sportello informativo che sarà di utile supporto al territorio è attivo lo sportello OpenSNAI e le informazioni sono già consultabili nella sezione dedicata del sito istituzionale dell'ente montano Vediamo Dalla comunità montana Vallo di Diano arriva un nuovo servizio che sarà da supporto per enti pubblici e imprese private favorendo l'informazione in riferimento alle opportunità progettuali e di finanziamento che vengono promosse sia a livello regionale che nazionale è nato ed è già attivo da diverse settimane lo sportello OpenSNAI che fortemente voluto dall'ente sotto la guida a cavallone intende fornire il supporto necessario e l'aiuto informativo al territorio al fine di poter accedere con maggiore facilità alle infinite opportunità offerte attraverso le missioni di bandi pubblici a sostegno sia delle attività commerciali ed economiche private e sia per gli enti pubblici Lo sportello si occupa di valutare tutti i bandi che vengono emessi dai diversi enti selezionare quelli che potrebbero rivelarsi di maggior interesse per il territorio valdianese pubblicarlo sul sito della comunità montana Vallo di Diano nell'apposita sezione dedicato allo sportello con tutte le informazioni di maggior interesse e allegando i link di riferimento per darne più agevole visione all'interessato e laddove vi sia la necessità offrire supporto informativo allo stesso nella compilazione delle apposite domande di adesione ai bandi di interesse Attivo da pochissime settimane lo sportello OpenSNAI ha già individuato due bandi di particolare interesse per il territorio di cui uno in particolare può essere interessante per le aziende operanti nel settore turistico ricettivo che a causa del covid sono risultate particolarmente danneggiate e ora si attivano per una ripartenza che le renda più competitive sul mercato La scadenza per la presentazione delle domande di adesione al nuovo bando che prevede la concessione di agevolazioni fino a 200.000 euro è prevista per il prossimo 2 novembre e lo sportello OpenSNAI della comunità montana Vallo di Diano è già attivo da diversi giorni per poter fornire tutte le informazioni necessarie e partecipare è solo uno degli esempi dell'utilità e dell'importanza dello sportello attivato dall'ente montano su iniziativa del presidente Francesco Cavallone e dell'assessore Antonio Pagliarulo che puntano in tal modo a dare una forte spinta alla crescita del territorio sulla base anche delle iniziative progettuali adottate nell'ambito di strategie delle aree interne di cui il Vallo di Diano è area pilota accedendo al sito www.montvaldiano.it a destra sullo schermo è stata inserita la sezione sportello OpenSNAI dove sarà possibile accedere in qualsiasi momento e verificare se esistono attivi bandi o iniziative progettuali utili al territorio del Vallo di Diano a chi lo vive e a chi opera nel comprensorio che siano enti pubblici oppure privati il servizio è a disposizione di tutti Ascoltiamo ora le interviste realizzate al presidente della comunità montana Francesco Cavallone e all'assessore Antonio Pagliarulo che presentano il nuovo servizio attivato a favore del territorio ossia lo sportello OpenSNAI Ascoltiamoli Credo che il compito di una comunità montana che racchiude un determinato territorio che per il momento sono 14 comuni deve avere proprio questa finalità unire un territorio per cercare di svolgere quante più funzioni possibili insieme e da qui è nata l'idea sempre nell'ambito del progetto delle aree interne di questo sportello OpenSNAI Vallo di Diano uno sportello che avrà come punto di riferimento naturalmente la comunità montana verranno stabiliti anche dei giorni in cui tutti gli operatori interessati potranno telefonare per ricevere delle informazioni ma soprattutto verrà messo in rite tutto il sistema anche con gli altri comuni del Vallo di Diano attraverso una pagina che potrà essere facilmente consultata da tutti gli operatori da tutti coloro che sono interessati per questo motivo le problematiche che verranno sicuramente affrontate sono tutte le possibilità di finanziamento nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'ambiente dell'economia, dei servizi, della salute e della sanità lo scopo del progetto delle aree interne e anche degli enti sovracomunali che gestiscono questi progetti è proprio di mettere in rite i territori, i comuni, i cittadini e dare la possibilità per chi ha le capacità per chi vuole investire sul territorio per chi ha delle professionalità specifiche cercare anche delle forme di sviluppo non solo per il territorio ma anche nuove forme lavorative per il nostro territorio onde evitare anche lo spopolamento di questi territori che sono interni dare queste possibilità perché ci possono essere tantissime sfumature che non potrebbero essere intercettate attraverso questa canalizzazione sicuramente potremo ottenere un ottimo risultato in sostanza lo sportello farà da animazione da contenitore per tutte quelle misure che usciranno sotto forma di bandi a cui potranno aderire i cittadini di questo territorio gli uffici della comunità montana faranno una sorta di scrematura di tutti quei bandi che saranno interessanti ai cittadini di questo territorio appunto per la crescita e lo sviluppo interno lo sportello mira soprattutto a individuare quei bandi che, non lo so, sia del turismo o dell'agricoltura potrebbero sicuramente essere collocati diciamo all'interno di questo territorio appunto per ottenere uno sviluppo gli bandi potrebbero essere tantissimi cioè si va, come ho detto prima dal turismo all'agricoltura ma potrebbero essere interessati ultimamente per esempio abbiamo individuato anche un altro mando quello della coesione per le aree interne ci sono tutta quanta una serie di opportunità che questo contenitore diciamo metterà a disposizione appunto dei cittadini altra cosa interessante lo ripeto perché lo reputiamo importante è il fatto che questa segreteria diciamo formata da alcune risorse all'interno degli uffici si metteranno appunto a disposizione dell'utenza quindi per qualsiasi tipo di informazione che possono essere utili in più cercheremo di far inserire il link all'interno di ogni sito comunale di modo che anche se ho i siti singoli dei comuni che fanno parte della comunità montana chiunque potrà accedere quindi visionarlo con molta semplicità e tranquillità La cronaca una complessa indagine dei carabinieri ha portato alla luce un diplomificio con base nel Cilento in un noto istituto situato in una rinomata località turistica 554 gli indagati a vario titolo che rispondono di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato vediamo i dettagli Arriva dal paese di Benvenuti al Sud la fabbrica di diplomi che con una cifra al di sotto dei 3.000 euro consentiva di essere benvenuti al nord e trovare lavoro soprattutto nel mondo della scuola la lunga e complessa indagine a cura dei carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania di Agropoli e della sezione di polizia giudiziaria sotto la direzione della procura vallese ha visto impegnati gli investigatori in un lavoro lungo un anno per la ricostruzione del diplomificio che aveva base a San Marco di Castellabate oggi a conclusione dell'inchiesta sono 554 gli indagati a vario titolo che rispondono dei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato tutto è partito dalla segnalazione di un ufficio scolastico regionale circa la circostanza che alcuni docenti per l'assunzione in ruolo nel 2018 avevano presentato titoli di studio molto datati e mai presentati in precedenza a quel punto i carabinieri hanno approfondito come mai questi titoli non erano mai stati utilizzati e acquisite centinaia e centinaia di titoli di studio sospetti sul territorio nazionale era dunque partita l'attività investigativa che è durata un anno così sono stati scoperti oltre 400 diplomi con firme false false pergamene ma anche discrasie tra registri e titoli quella che è stata scoperta dai carabinieri è insomma una vera e propria fabbrica di titoli di studio falso e non certo gratuiti costava tra i 1000 e i 2500 euro ottenere il rilascio del titolo di studio come il diploma di grado preparatorio il diploma di specializzazione polivalente diplomi di qualifica professionale gli indagati sono residenti sull'intero territorio nazionale non solo nel Cilento molti di loro grazie al titolo di studio falso hanno vinto concorsi in ambito scolastico ora il danno per la pubblica amministrazione ammonta ad oltre 7 milioni e mezzo di euro ma l'indagine prosegue e le persone potrebbero anche perdere il posto di lavoro il consiglio di stato annulla l'elezione di Mario Pepe a sindaco di Postiglione e del consiglio comunale proclamato eletto a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 Carmine Cennamo e i componenti della sua lista avevano impugnato gli esiti elettorali dinanzi al Tar Salerno ma il ricorso era stato respinto c'è stato poi l'appello al consiglio di stato che ha annullato la proclamazione degli eletti nelle elezioni svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020 e disposto la ripetizione delle elezioni del comune di Postiglione limitatamente alla sezione 1 Secretato l'interrogatorio durato più di 7 ore al quale ieri è stato sottoposto presso la cittadella giudiziaria di Salerno Vittorio Fiorenzo Zoccola uno dei principali indagati nell'inchiesta della procura sugli appalti truccati vediamo i dettagli nel prossimo servizio è stato secretato il lungo interrogatorio al quale presso la cittadella giudiziaria è stato sottoposto Vittorio Fiorenzo Zoccola il presidente di una delle otto cooperative sociali ma di fatto il gestore principale del sistema sul quale punta l'attenzione l'inchiesta della procura di Salerno che ha portato in carcere Zoccola e ai domiciliari l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Nino Savastano ed il dirigente del settore ambiente Luca Caselli con l'accusa di aver realizzato una serie di irregolarità che consentivano alle cooperative con un giro di circa 200 lavoratori ed un valore di un milione e 600 mila euro l'anno di vincere tutti i bandi relativi alla gestione di servizi vari tra i quali la manutenzione del verde pubblico ottenendo in cambio sostegno elettorale all'interrogatorio con il giudice per le indagini preliminari Gerardina Romaniello e IPM Guglielmo Valenti Elena Cosentino che ha preso il via alle 11 e 30 ed è terminato alle 18 e 45 ha preso parte anche il procuratore capo Giuseppe Borrelli Zoccola è difeso dall'avvocato Michele Sarno candidato alle ultime elezioni amministrative nella coalizione di centrodestra nulla in ogni caso è trapelato dalle dichiarazioni di Zoccola unico ad essere è stato ascoltato ieri perché per un ritardo nella notifica degli atti gli altri interrogatori sono stati rinviati lunedì ad essere ascoltato dai magistrati anche il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli che in queste ore alle prese con il rebus giunta prende sempre più piedi l'ipotesi di assessori tecnici ma non sarà facile individuarli nell'ordinanza viene più volte evidenziata la rete di relazioni tessuta da Zoccola con il mondo politico e amministrativo egli è al centro di un vasto network di conoscenze legami interessi economici si legge nell'ordinanza e non escluso che ieri Zoccola abbia iniziato a fare piena luce proprio su questa rete su chi e come ha beneficiato del suo appoggio i lavoratori senza Green Pass saranno sospesi come previsto dal nuovo DPCM una misura che per confesarcenti Salerno potrebbe danneggiare il commercio ma vediamo i dettagli nel servizio rischiano da oggi la sospensione dello stipendio tutti i lavoratori del settore pubblico e privato che verranno trovati senza il Green Pass entra così di fatto in vigore il provvedimento annunciato da tempo e ricompreso nel recente DPCM a firma del Premier Draghi e proprio in merito al nuovo provvedimento interviene anche confesarcenti Salerno che attraverso una nota prende posizione siamo sempre stati favorevoli alla campagna vaccinale e alla possibilità di utilizzare il Green Pass per scongiurare drammatiche chiusure commerciali sottolinea la Confederazione ma riteniamo però eccessive in assenza di obbligatorietà vaccinale i controlli e costi a carico dei datori di lavoro specie per le imprese medie e piccole che dipendono in maniera vitale dalla presenza effettiva dei propri collaboratori in azienda e senza i quali sarebbero costritti a chiudere l'attività ora non resta che attendere eventuali prossimi sviluppi sulla vicenda anche se in questo momento storico appare molto improbabile un dietrofront del governo Ora ci fermiamo per un po' di consigli per i vostri acquisti ci ritroviamo tra poco Bentornati in studio proseguiamo con il nostro telegiornale a San Pietro Altanagro al via le domande per il sostegno alla mensa scolastica per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza Covid c'è tempo fino al 21 ottobre i dettagli In arrivo a San Pietro Altanagro misure urgenti di solidarietà alimentare per persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dall'emergenza Covid l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Quaranta ha infatti approvato l'avviso pubblico per i buoni mensa sono dunque aperti i termini per presentare domanda per l'esenzione fino ad importo predeterminato per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che usufruiscono del servizio mensa c'è tempo fino al 21 ottobre per la presentazione della domanda che può essere scaricata dal sito internet del comune le risorse complessive disponibili ammontano a 14.526 euro e il valore del singolo buono è pari a 3,56 euro l'applicazione delle misure urgenti specificano dal comune è da considerarsi una tantum non ripetibile e nei limiti delle risorse disponibili tra i requisiti che le famiglie devono avere per poter presentare richiesta di riconoscimento dei buoni mensa ci sono la residenza nel comune di San Pietro Altanagro e un valore ai 6 non superiori a 12.000 euro è possibile presentare una sola domanda per nucleo familiare cumulabile nel caso in cui gli alunni frequentino contemporaneamente sia la scuola dell'infanzia che la scuola primaria per un massimo di 100 pasti per alunno la domanda deve essere inviata via e-mail o consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune avviso a San Pietro Altanagro per il ritiro degli ingombranti e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche IRAE in questo mese di ottobre gli ingombranti potranno essere conferiti il prossimo 21 ottobre mentre per i mesi di novembre e dicembre il servizio sarà sospeso e sarà attivo il solo ritiro dei RAE nel dettaglio in questi ultimi due mesi dell'anno i ritiri sono previsti il 25 novembre e il 30 dicembre si potranno conferire rifiuti come frigoriferi condizionatori lavatrici lavastoviglie stufe elettriche monitor e televisori apparecchi di illuminazione computer telefoni pannelli fotovoltaici lampade a led per prenotare il ritiro a domicilio i cittadini potranno rivolgersi all'area tecnica del comune è stata presentata ieri sera a Salerno la nuova squadra di calcio a 5 che rappresenterà Salerno nel campionato di serie B Girone F ieri sera la presentazione al polo nautico dell'Alma Salerno e del nuovo progetto del Futsal Academy due iniziative sportive che godono del sostegno della Banca Montepruno vediamo i dettagli la Banca Montepruno sempre a fianco dei giovani dello sport e di chi crede nei suoi valori dopo l'iniziativa e il sostegno manifestato alle attività avviate in questa nuova stagione sportiva nel Vallo di Diano nella serata di ieri 14 ottobre presso il polo nautico a Salerno il direttore generale Michele Albanese accompagnato dal vicepresidente della Banca Montepruno Antonio Cinello dal vice direttore Cono Federico e dal responsabile segreteria Antonio Mastrandrea ha avuto modo di sottolineare la vicinanza e l'apertura della Banca a sostenere iniziative che siano di grande valore culturale sociale ed educativo in particolare per i giovani nel corso dell'evento di presentazione della nuova compagine che militerà nel campionato di calcio a 5 serie B Girone F Alma Salerno rappresentando i colori salernitani nel prossimo campionato la Banca Montepruno sarà a fianco della compagine calcistica ma insieme al sodalizio sportivo ha già avviato anche un nuovo ed importante progetto presentato sempre nella serata di ieri ossia la nascita della Futsala Academy che si pone come obiettivo quello di diffondere nei banchi di scuola il calcio a 5 lavorando per consentire anche i bambini meno abbienti di potersi avvicinare e praticare la disciplina sportiva manifestando la disponibilità della Banca Montepruno di sostenere i progetti sportivi soprattutto se destinati ai giovani come nel caso di Alma Salerno e Futsala Academy il direttore generale Michele Albanese ne ha rimarcato la valenza ed elogiato l'impegno dei promotori che in nome della lealtà e dell'amicizia portano in alto il nome di Salerno il presidente del sodalizio sportivo Marco Bianchini insieme al direttore Peppe Pucciarelli hanno evidenziato come la partnership con la Banca Montepruno è un accordo di grande prestigio perché la stessa rappresenta una realtà attenta al territorio e sensibile alle risigenze dei giovani e in tema di sport parliamo di Salernitana della cessione della Salernitana c'è una nuova offerta da 50 milioni di euro per l'acquisto del club vediamo i dettagli nel prossimo servizio una novità importante sul fronte della cessione della Salernitana sul tavolo questa volta 50 milioni di euro per acquistare il club Granata e l'offerta formulata tra Stipa olo Bertoli e Susanna Esgro da un accordata di imprenditori pugliesi e salernitani decisi fermamente a diventare nuovi proprietari dell'Ippocampo sette le proposte di acquisto fino ad ora giunte ed è probabile un'asta dopo la scadenza della nuova deadline il nuovo termine per la presentazione delle offerte di acquisto del club infatti è stato fissato al 15 novembre c'è fiducia e non si esclude che possano arrivare altre importanti proposte il tempo per ora sicuramente non manca ovviamente i trasti sono già al lavoro per analizzare nel dettaglio i profili delle cordate che già si sono fatti avanti è bene ricordare che la cessione dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre pena l'esclusione dei Granata dalla massima serie e con questo è tutto per il nostro telegiornale grazie per averci seguito continuate a restare con noi e a tutti buon proseguimento grazie a tutti